Assessore, quant'è grande l'orgoglio di avere una prima azienda siciliana che riceve una certificazione così importante come quella targata Green? Certamente le eccellenze siciliane sono veramente importanti e in particolare quando un'azienda come l'Oleficio Barbera ottiene un riconoscimento di questo tipo, per noi come assessorato, come regione siciliana è particolarmente gradito, è particolarmente un fatto veramente rilevante. Io spero che tante altre aziende possano seguire questa strada perché attraverso l'agroalimentare noi riusciamo a portare avanti il Made in Sicily e quindi questi prodotti non solo hanno un valore di per sé ma hanno un valore perché riescono a promuovere la Sicilia, le bellezze naturali della Sicilia, il turismo, non a caso oggi si cerca di abbinare il turismo con i prodotti agroalimentari. Noi facciamo delle certificazioni volontarie, un punto di partenza, non di certo di arrivo. La cosa di cui sono orgoglioso è che abbiamo lavorato su questo progetto col Ministero dell'Ambiente ma parlando di un olio IGP Sicilia, quindi un olio interamente prodotto con una filiera siciliana, olive siciliane dall'Etna a Trapani e questo sicuramente è un messaggio importante. Sicuramente tanti nostri colleghi di grande eccellenza, perché i produttori siciliani hanno tutti un olio di grandissima eccellenza, potranno anche trarre spunto da questa certificazione, perché la sostenibilità oggi è un tema irrinunciabile.